Altro che sciopero, l'Arezzo chiude il 2017 con i botti e vince una partita pirotecnica contro la Gianerminio, segnando quattro golle e facendo collezione di occasioni. Il pubblico delle comunale si è divertito alla grande, mettendo da parte almeno per 90 minuti le tribolate vicende societarie. L'inizio è scoppiettante, bastano 80 secondi a Corradi per trovare un'autostrada a sinistra. Il cross in mezzo è con i contagiri e per Cutolo è un gioco da ragazzi appoggiarla di piattone e mancino in rete. Primo gol in casa per il numero 10, proprio davanti alla curva sud e quarto totale in campionato. La strada Maranto si mette in discesa, la Gianerminio sbanda di fronte a un avversario pimpante a dispetto della vigilia tormentata. L'Arezzo attacca a testa bassa al quarto raddoppia, il filtrante di foglia è un gioiello, poi ci pensa Moscardelli a fare il resto, deponendo in fondo al sacco il pallone del raddoppio. Il capitano arriva così in doppia cifra in classifica a marcatori, segnando il gol numero 10 della sua stagione. La Gianna, reduce da sei vittorie nelle ultime otto giornate, prova a reagire ma, fatta eccezione per un possesso palla prolungato davanti, non costruisce granché. Pavanelli, in tribuna per squalifica, osserva la squadra tenere il campo con ordine, senza rischiare praticamente mai e costruendo con apprezzabile continuità alcune trami di gioco che strappano applausi ai tifosi. Si va al riposo con il doppio vantaggio a Maranto ma le brutte sorprese sono dietro l'angolo. La Gianna torna dentro con più brio, mentre la Bruscato rimpiazza Dursi con Varga, passando dal 4-4-2 alla difesa 5. Subito dopo, su un angolo contestato, il debuttante Ferrari si esibisce in una parata super su Bonalumi. Poi però nulla può sul tapin di Perna, che rimette in bilico il risultato. Le parti si invertono e stavolta è Larezzo a perdere la bussola. Così ecco il patatrac, Pinardi ci mette la qualità, Bruno rifinisce e Perna, tenuto in gioco da Luciani, firma la sua doppietta personale in mezzo alle proteste a Maranto per un offside, che però non c'è. Siamo al minuto 10 ed è tutto da rifare, ma quando la situazione sembra troppo complicata gli a Maranto reagiscono alla grande e come a Olbia sette giorni fa è decisivo un corner. Parabola di Cutolo e testata vincente di Rinaldi, che scaccia i fantasmi e riporta avanti Larezzo. Per il difensore è il terzo gol nel campionato, anche questo segnato di testa. La Gianna si sfalda, bruscato, fa entrare Talarico e Benucci e proprio il numero 21, a 19 anni, si toglie lo sfizio di trasformare in oro l'assist di un encomiabile Moscardelli. Prima rete da professionista per l'aretino Benucci, un gol che chiude l'anno solare e che potrebbe avere un significato benaugurante per il futuro. La squadra arriva alla pausa del campionato con una grande dimostrazione di orgoglio. Adesso tocca al presidente Matteoni, appuntamento per il 3 gennaio davanti al notaio.